tiraccio tiraccio angolo angolo per i verdi dell'Avis Genga che sono all'attacco siamo quasi alla fine del primo tempo fallo parato del portiere manovra il Nebbiano è rientrato in campo intanto Burzac a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parato del portiere di piede, salva il risultato. Grazie a tutti. Fuori. Palla fuori. Aggiungo la variante. Time out. Pausa per noi.